ciao a tutti e ben ritrovati oggi propongo un video tutorial sul cambio cinturino del mio cardiofrequenzimetro polar m400 bene per procedere facciamo in questo modo io intanto mi sono già portato avanti con la procedura e ho tolto praticamente il vecchio cinturino allora naturalmente prima di procedere pulite bene le parti dove possono essersi formate delle incrostazioni di sudore dunque il cardio in mio possesso è l m400 versione 2 quello che praticamente non è stato più inserito la copertura per la protezione dell'usb che creava appunto nelle prime versioni problematiche di contatto tant'è vero che in alcuni forum si legge che dopo un periodo di tempo si creava dell'ossido quindi proprio avendo quella tipo di copertura per appunto ovviare a questa problematica la polar ha appunto tolto completamente la protezione e infatti io non ho mai avuto problemi e anni che ce l'ho e questo cardio va benissimo e poi c'è da aggiungere una cosa molto importante per la sostituzione che sarebbe appunto che in un lato è presente una tacca che è questa e nell'altro no dico questo perché quando andremo a fare la sostituzione del cinturino se nella parte dove dove non è presente e lo ribadisco non è presente la tacca e non la andiamo ad asportare nel cinturino non andrà a contatto quindi si creerà una superficie non aderente completamente e questo impedirà l'inserimento del perno mentre dall'altra parte non ci sono problemi quindi una tacca va asportata e l'altra no ok allora procediamo in questo modo inizio con la parte dove non è presente la tacca quindi qui ho tolto il supporto qui c'era la tacca l'ho asportata e lo inserisco poi prendo il suo perno lo vado a inserire nel punto di ingresso che qui e io consiglio io mi aiuto con le pinze per facilitare completamente l'inserimento di uno questa è la parte dove c'è la la tacca qui l'ho lasciata vado a inserire e va dentro addirittura a mano allora il cinturino in oggetto è il cinturino del polar m430 ed è completamente compatibile con il polar m400 quindi non ci sono problemi bene con questo è tutto e ci vediamo al prossimo tutorial ciao a tutti